Me la tengo per il prossimo dibattito televisivo, così non dico nulla, sto lì, sorrido e per me parla il comune. No, dalla Gruber per un po' non ci vado signora, ci torno quest'estate e ci vado in costume da bagno, così almeno... Domani sono a Spoleto e alle due e mezza mi collego con Rai 3 e qualunque domanda mi facciano io rispondo parlando di Umbria. E martedì vado, la felpa quasi quasi però, martedì vado da Vespa a incontrarmi con uno che ha il 3%, ma io mi confronto con tutti, anche perché se uno è convinto delle sue idee non deve avere paura di niente e di nessuno. Oggi leggevo, c'era su liberoquotidiano.it che c'è un comico, tal Lello Arena, che voleva un confronto pubblico con me. E prima di Lello Arena come comico, martedì c'ho l'altro comico. E quindi step by step. Comunque, ragazzi, la cosa fondamentale è che io mi ricordo l'ultima volta che venni in questa piazza e quindi la ritrovo stravolentieri, sto girando comuni dell'Umbria incredibili. Una giornalista mi ha chiesto, ma veramente se si vince in Umbria lei si trasferisce in Umbria, magari. Mi ha chiesto, ma qual è il comune più bello? No, non farmi fare, no, non farmi fare quello del PD, che quando è Foligno dice a Foligno, quando è Orvieto dice Orvieto, devo scegliere, però è difficile scegliere perché avete una terra stupenda e io spero che il 27 ottobre ci sia una valanga di voglia di cambiare. Quindi una domenica di voto, di coraggio, di onestà, perché l'Umbria non può essere associata agli assessori alla sanità arrestati perché truccavano i concorsi pubblici, non è una roba degna di un popolo come il popolo Umbro e di gente che studia medicina per andare a fare un concorso pensando di farlo liberamente, quel concorso. Quindi liste d'attesa, io sto girando paesi dove trovo donne e uomini che mi dicono Salvini ho chiesto una visita, me l'hanno data ad aprile 2021. Anche a lei signora? Più o meno, anche a lei signora. Poi, e per caità, è vero che l'Umbria è la terra dei santi, San Francesco, San Benedetto, Santarino, però siamo a ottobre 2019, diciamo che va bene aver fede, però uno visto che paga le tasse anche in Umbria si aspetterebbe di avere una visita medica prima di due anni. Quindi il primo tema di cui occuparsi, sanità, liste d'attesa e andare a riaprire quei troppi reparti che la sinistra ha chiuso perché non sapeva gestire questa terra, perché sul diritto alla salute non si scherza, senza promettere miracoli. Non veniamo qua a dire che votate Lega domenica prossima e poi in 15 giorni a lei. No, abbiamo cinque anni di impegno, di lavoro, di fatica, di passione, a partire dalla sanità e sanità vuol dire anche trovare i soldi per trovare quegli infermieri che vadano a casa di quei disabili che oggi sono dimenticati e abbandonati da anni perché non ci sono i fondi. E io li sto incontrando, entrando nelle loro case. Regione vuol dire trasporti, vuol dire viaggiare, perché tutti da fuori Umbria dicono che bella che è l'Umbria, una terra stupenda, ma che bella da visitare. Poi stai qua due giorni, poi torni altrove, e però l'Umbria deve essere bella per quelli che ci abitano 365 giorni all'anno, non puoi avere delle strade provinciali che sono dei safari e dei rally, dove non puoi andare in giro in macchina se non c'hai il fuoristrada. I treni, che bello venire in Umbria in treno, un frecciarossa alle 5 della mattina da Perugia, uno. Che bello arrivare in Umbria in aereo, ma voi avete uno dei pochi aeroporti al mondo che sceglie i voli in base alla ruota della fortuna, nel senso che chissà questa settimana da Perugia dove mi mandano, chissà in quale altra città. Noi sorridiamo, però quanto è difficile fare impresa in queste condizioni, quanto sono eroici gli imprenditori, gli agricoltori e gli artigiani Umbri che per portare nel mondo in Italia i loro prodotti devono spendere il doppio rispetto agli altri. Come hanno speso i soldi degli Umbri, quelli della sinistra, nei 50 anni precedenti? Dove sono le strade che hanno promesso? Quindi anche su questo, settimana per settimana, mese per mese, gestione delle case popolari. Ah, noi lo diciamo subito, chi sceglie quel simbolo lì, il 27 ottobre fa una scelta chiara e noi lo diciamo prima, non dopo. In un momento di difficoltà economica le case popolari, i contributi regionali, è il bonus bebè, è il bonus affitto, è il bonus per la luce, è il bonus per il negozio, è quello che parte dalla regione, se non c'è tutto per tutti, va prima agli italiani e poi al resto del mondo. Va prima ai cittadini italiani e poi quel che avanza al resto del mondo. Ed è una questione mi sembra di normale buonsenso. Secondo qualcuno invece, per carità, è vero che siano tutti figli di Dio, ma se uno sta a Foligno e fatica a Foligno e contribuisce alla comunità di Foligno da 40 anni, avrà mezzo diritto in più rispetto a chi sbarca domani mattina a Lampedusa, sì o no? E quindi sull'immigrazione non la faccio lunga perché Di Maio ha detto, cos'era, la settimana scorsa New York, cioè Di Maio che faceva le storie su Instagram in giro per New York e già va bene, ha detto sull'immigrazione noi faremo molto meglio della Lega. No? Ha ragione, dipende da quale punto di vista lo interpreti. Nel senso che è vero che loro in un mese, stando ai dati ufficiali del Ministero dell'Interno che chiunque di voi può verificare andando a casa, in un mese sono riusciti a triplicare gli sbarchi rispetto a settembre 2018. Quindi in un mese ce l'hanno fatta, a fare molto meglio, molto meglio per chi? Per quelli che anche in Umbria aspettavano la riapertura dei porti per tornare a guadagnare milioni di euro sulla pelle di questi disgraziati. Quindi Di Maio sta facendo molto meglio. C'è la festa dei 5 Stelle oggi a Napoli, mi hanno detto che è come quelle feste di laurea dove ci sono quelli che la laurea non ce l'hanno avuta e quindi organizzano le feste e lo dice uno che non è laureato e quindi non è per fare ironia. Però pensate in Umbria, questa settimana si è dimessa una consigliera comunale dei 5 Stelle di Terni e ha fatto una lettera pubblica dicendo non ce la faccio. Io ho cominciato la mia battaglia politica per l'onestà, per la rivoluzione, per il cambiamento, per mandare a casa in Umbria e a Roma il Partito Democratico che governa da 50 anni e poi arriva un signor Di Maio e un signor Griglio che mi dicono in Umbria ti devi alleare con i 5 Stelle e quindi io sono sicuro che il 27 ottobre è una marea di elettori in buona fede sia del PD che dei 5 Stelle e li incontro nelle piazze per la prima volta voteranno Lega e io li ringrazio per questa forma di risposta civile. Stamattina a Perugia una signora mi ha detto Salvini, una signora sui 50, mi ha detto Salvini da che io voto? Io voto a sinistra perché il mio nonno per tradizione votava a sinistra, perché il mio babbo per tradizione votava a sinistra e io da che ho 18 anni voto a sinistra. Quest'anno per la prima volta il 27 ottobre voto chi difende gli operai e chi ha bisogno, cioè voto Lega. E per me è bello come tanti altri, quindi superare le steccate destra, sinistra, fascisti, comunisti. Leggo che gli unici argomenti che hanno quelli del PD è attenzione non si può consegnare l'Umbria alla Lega, pericolosi, fascisti, razzisti. Noi con tutti i nostri limiti governiamo tante regioni, governiamo la mia terra da 30 anni e a me piacerebbe che anche in Umbria con la Lega al governo si facesse quello che si fa ad esempio a casa mia, quest'anno in regione Lombardia grazie ai contributi della regione vanno all'asilo nido gratis 15.000 bambini che altrimenti sarebbero rimasti a casa perché la mamma e il babbo non c'erano i soldi per pagare i 600 euro diretta. E con il regolamento che abbiamo messo il 90% di questi bambini hanno la mamma e il papà italiani. Ma non lo dico per escludere, lo dico perché da qualche altra parte fanno l'asilo nido gratis per i genitori che non lavorano. Noi abbiamo messo nel regolamento che diamo l'asilo nido gratis se i genitori lavorano perché il problema è aiutare chi si spezza la schiena alzandosi alle 5 della mattina, non chi sta a casa magari pigliando il reddito di cittadinanza e gli do pure l'asilo nido gratis, è il bonus bebè, è il bonus scuola, è il bonus qui, è il bonus... vogliamo dare una mano a quelli che si alza alle 5 della mattina o no? Quindi non sono ragionamenti così strani. In regione Lombardia c'è un contributo ai genitori separati o divorziati con dei bimbi a carico che non ce la fanno a tirare a fine mese e quei 400 euro magari fa la differenza perché il babbo separato magari si può affittare il monolocale con cui dormire col proprio figlio il sabato o la domenica, quindi sono cose normali per persone normali. Io sono contento anche del cambiamento che avete scelto a Foligno, sono contento e fate un applauso della battaglia che la squadra della Lega, del centrodestra, dal sindaco, agli assessori e ai consiglieri stanno portando avanti insieme a voi e non vedo l'ora che arrivi il 27 ottobre. Non ho mai aspettato un'elezione come la vostra, neanche quando dovevo votare per il sindaco di Milano, ma perché se ci fate caso le grandi televisioni ne parlano poco e niente, perché Di Maio ha detto sì ma non è importante il voto in Umbria, Zingaretti e Renzi hanno detto sì è un voto però non è che cambi niente, questo mi dice che hanno paura, che hanno provato a farvi fessi perché veramente per me la dignità viene prima di altre cose, qua si va a votare e io quando vado in televisione lo ricordo ogni volta, lo ricorderò domani dall'annunziata, lo ricordo martedì da Vespa, lo ricordo quando ci vado perché i non Umbri non lo sanno, in Umbria si vota prima perché hanno arrestato l'assessore della sanità, il segretario del PD e indagato il presidente del PD. È sempre bene ricordarlo che non è che si voti il 27 ottobre così, però la cosa incredibile e secondo me è ancora più grave perché poi per carità l'inchiesta andrà avanti, vedremo chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, certo leggere alcune intercettazioni era imbarazzante, io mi ricordo quella di quella tizia che poi è stata assunta che si lamentava al telefono perché lei era raccomandata ma le avevano passato del quiz solo le domande e non le risposte. Questo vuol dire che sei tarato, se manco ti serve per vincere il concorso truccato, aver le domande in anticipo perché ti devono allegare pure le risposte in anticipo, ma fai le parole crociate facilitate, quelle grosse così, non fare quelle senza schema. Ma la cosa grave secondo me, questo se venisse confermato è ovviamente grave perché tu hai portato via il posto col trucco a una ragazza o a un ragazzo che hanno studiato, non erano raccomandati e quel posto l'avrebbero meritato e dal 28 ottobre per Regione Umbria lavora chi è bravo e chi merita, non chi ha la tessera giusta in tasca o chi conosce il tizio giusto a Perugia. No, non mi interessa se è della Lega o non è della Lega, se è bravo lavora, se non è bravo non lavora. Però la cosa grave è che quelle denunce da chi venivano fatte? Da quelli dei 5 Stelle. E adesso con chi si alleano quelli dei 5 Stelle? Col PD. Cioè prima li denunciano, prima li arrestano e poi per salvare la poltrona ci salleano. Date una lezione a questi poltronari domenica 27 ottobre, ve lo chiedo veramente col cuore, col cuore. Come fai a denunciarti e ad allearti? Ieri leggevo che nella regione vicina, perché c'è qualche problema in Umbria, però se voi venite per lavoro, per passione a Roma c'è da mettersi le mani nei capelli e ieri Zingaretti, il segretario del PD ha detto no, la Raggi non si deve dimettere. Ma cazzo, ma se c'è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi. Sta conciando la città più bella del mondo a una discarica e il PD che teoricamente è all'opposizione dice no, però la Raggi deve lavorare di più. Ma la Raggi, anche se stesse lì 60 anni, non riuscirebbe a svuotare un cestino, perché uno può essere bravo a sciare, a giocare a tennis, a cucinare, a fare l'avvocato, a fare il papà, a fare la mamma, ma se uno non riesce a fare il sindaco, non riesce a fare il sindaco. Io non riesco a fare certe cose, però ripeto, mancano 15 giorni, tocca a voi. È un voto degli Umbri per gli Umbri. Però sicuramente le televisioni di tutta Italia e di tutto il mondo, domenica 27 saranno a Foligno, saranno a Perugia, saranno a Terni, perché vogliono provare a vedere se il loro esperimento nei palazzi romani funziona e frega la gente anche a Perugia e anche a Terni. Io girando le piazze di tutta questa splendida terra ho una certezza. Il 27 ottobre noi non vinciamo, stravinciamo. stravinciamo. L'ultimo tratto di strada però lo lascio a voi. Io poi ripeto, stamattina siamo partiti da Perugia, poi si è stati a Deruta, poi stiamo a Foligno, poi domani Acqua Sparta, Spoleto, Monte Castrilli, Castel Rinaldi, Ritaldi. Castel Ritaldi, sì sì, me lo ricordo. Ogni tanto è qualche giornalista che prima mette una foto su Instagram con la felpa bastardo e dirà con chi ce l'ha oggi Salvini? No, mi ha regalata, era pieno di gente per bene. Chiedo negli ultimi 15 giorni a voi, oggi è il 12, si vota il 27, negli ultimi 15 giorni voi potete fare qualcosa che non posso fare io, parlare alla testa e al cuore, perché anche a Foligno, stando ai dati delle ultime elezioni regionali, come in tutto il resto dell'Umbria, la metà della gente ancora oggi pensa di starsene a casa, perché tanto non cambiano, alzi la mano chi conosce almeno una persona che non va a votare il 27 ottobre. Ecco, se ce li avete in casa, buttateli fuori. Se ce li avete in ufficio, in azienda o in negozio, mutismo. No, ma è vero, nel senso che 5 anni fa ha votato il 50% della gente. Quindi la metà della gente 5 anni fa ha detto non ne vale la pena. È vero che magari 5 anni fa e in tutte le altre elezioni precedenti uno non votava perché diceva ma tanto è da 50 anni che vincono gli stessi e quindi io voto o io non voto non fa differenza. Ragazzi, stavolta, domenica 27 ottobre, il treno che passa per Foligno o per Castelritaldi. Dopo 50 anni si ferma il 27 ottobre. Ma chi non sale sul treno il 27 ottobre? Non è che il 28 ottobre fa in tempo a tornare indietro. Stavolta, come mai nella storia dell'Umbria, ogni voto di ogni donna e di ogni uomo può essere quello decisivo che fa la differenza. E chi sta a casa è complice del vecchio e per 5 anni non si lamenti se le cose non cambiano e se le cose in Umbria non funzionano. Noi ce la stiamo mettendo tutta, donne, uomini. Un candidato presidente che ha fatto il sindaco per 10 anni in un comune bello che non è lontano, che basta andare a vedere come è cambiato a Montefalco che i turisti ci sono tutto l'anno e non solo il sabato e la domenica. Ecco, mettiamoci in quest'ottica. E veramente, io ci metto l'anima, sono qua oggi, sono qua domani, lunedì mattina mi fermo per andare in carcere a Spoleto non a vedere se stanno bene i poveri spacciatori ma a vedere se stanno bene i poveri poliziotti che in carcere a volte hanno una vita peggiore rispetto a quelli che controllano. Poi martedì e mercoledì a Roma in Senato, poi se non erro mercoledì torno in Umbria. Corciano Alto Tevere, ormai c'ho ormai stroncone, spello, cerreto, c'ho dentro la piantina dentro, che poi li dico a Di Maio questi nomi così almeno facciamo l'esame di geografia oltre che di lingua. Va bene così. Poi sabato spero di vedere molti di voi in quella che secondo me sarà una delle più grandi manifestazioni di popolo degli ultimi anni in piazza San Giovanni a Roma, donne, uomini, sorridenti, lavoratori, commercianti, artigiani, studenti. E il bello è che secondo me ci saranno almeno centomila persone ma quando ci sono centomila persone con la Lega poliziotti e carabinieri sono tranquilli e sorridenti perché noi lasciamo le piazze più pulite e sicure di come le abbiamo trovate la differenza rispetto a quando vanno in piazza quelli dei centri sociali o altri casinisti. Poi però sabato prossimo la sera torno a Perugia, domenica sono ancora in giro per l'Umbria, lunedì sono ancora in giro per l'Umbria, vi verrò a noia però veramente è un'occasione imperdibile per voi e poi se mi fate sto regalo io il 28 voglio andare a Roma e guardare in faccia Renzi, Di Maio, Zingaretti, la Boldrini, la Boschi, Lotti, Franceschini, Gentiloni, non dico niente e sorrido. Se mi avanza tempo la Marini e Bocci, così, ma proprio se mi avanza del tempo. E poi domenica 27, ripeto, in bocca al lupo, la storia la fanno i popoli e le singole persone. Innanzitutto ci tengo a dirvi grazie dal profondo del cuore e non per forma ma perché lo credo, perché vedervi così tanti un sabato sera in piazza Foligno è qualcosa che mi dà una forza, una gioia e un entusiasmo incredibile. Quindi dico grazie di cuore a ciascuno di voi per aver sacrificato due ore del vostro tempo alla famiglia, al negozio, al lavoro, al teatro, al relax. Quindi vi dico grazie per questo, vi dico che sembrerà strano, però non è la poltrona che ti dà più o meno voglia di lavorare. Ero ministro, sì, penso di averlo fatto decentemente, penso di aver dimostrato agli italiani che volere è potere e quando ho guidato la Ruspa a Roma per abbattere la villa dei mafiosi Casamonica penso di averlo fatto a nome di 60 milioni di italiani, anche se quelli si sono un po' incazzati, ma fa niente. Quando ho detto no agli sbarchi sapevo di rischiare e infatti entro 60 giorni un'altra volta il Tribunale dei Ministri dovrà decidere se devo essere processato per sequestro di persona perché quest'estate ho bloccato per quattro giorni a fine abbosto lo sbarco di un centinaio di immigrati. Vi dico dal profondo del cuore che quando torno a fare il ministro rifarò esattamente la stessa cosa per difendere i confini, l'onore, la dignità e la sicurezza del mio Paese. E se mi devono processare che mi processino. Preferisco essere processato perché difendo il mio Paese che non per aver truccato dei concorsi per assumere la gente negli ospedali dell'Umbria. Ognuno ha i processi che si merita, cosa vi devo dire? Però quando ho capito che dopo le elezioni europee, guarda caso, sono state le elezioni europee, noi abbiamo preso tanti voti, 5 Stelle hanno dimensato i voti e da allora hanno cominciato a dire no a tutto. E no a un mese, e no a due mesi, e no a tre mesi, e no alla TAV, e no all'autonomia, e no alla giustizia, e no alla flat tax, e no qui, e no là. E noi abbiamo detto ragazzi miei, basta, non stiamo al governo per scaldare la poltrona con i signor no. In un Paese normale cosa sarebbe successo? Saremmo andati a votare perché teoricamente la sovranità appartiene al popolo, c'è scritto nella Costituzione. Qualcuno nei palazzi ha deciso che la sovranità appartiene a cento senatori che piuttosto che tornare a votare e tornare a lavorare, voterebbero anche il governo di Pippo, Pluto e Paperino, e vorrà dire che scappano per qualche mese, ma non scappano per tutta la vita. Il tempo è galantuomo e noi al governo ci rientriamo, se voi lo vorrete, dal portone principale. A testa alta, a testa alta, non di notte scendendo dal palazzo col passamontagna come i ladri che hanno qualcosa da nascondere. E io sto girando l'Umbria in lungo e in largo, facendo comizi sui tavolini dei bar, sulle panchine, davanti alle fontane, qua in piazza. È bello, è bello. Quanti altri possono dire di avere la possibilità e la voglia di fare lo stesso? Quanti ne troverete qua in piazza a Foligno a parlare di Umbria? Al massimo i contestatori che io sto trovando pochini e sfigatelli passano sul fondo, tirano sul dito medio, urlano fascista! C'erano tre l'altro giorno, c'era una piazza stupenda, sono state almeno 600 persone e c'erano questi tre pure stonati che hanno fatto bella ciao, che a me piace pure, è bella come musica, però vai a X Factor, non venire in piazza mentre c'è gente che parla di ospedali, di asili nido, di case di riposo. Io ho trovato nelle piazze dell'Umbria agricoltori che aspettano un contributo dalla regione Umbria che è dovuto per legge da quattro anni, da quattro anni ci sono agricoltori che aspettano i contributi della regione del 2015 e siamo nel 2019. Ho incontrato imprenditori terremotati che dopo due anni di vai e torna, vai e torna negli uffici della regione, hanno smesso di perdere tempo e il negozio si sono ricostruito mettendoci i soldi di tasca loro, perché io vi invito ad andare a fare un salto a Norcia o a San Pellegrino di Norcia è tutto esattamente fermo a tre anni fa alla faccia dei commissari che si sono susseguiti, Errani, Dei Micheli, Crimi. Cosa ha fatto la regione Umbria per dare una mano ai terremotati in questi anni? È questo che bisognerebbe andare in giro a raccontare, quindi poi si stupiscono se le cose cambieranno il 27, io sono convinto che cambieranno e poi la nostra sfida comincia il 28, perché adesso vedete sui tabelloni elettorali, l'ho visti anch'io venendo su a Foligno, un sacco di gente che ride, belli, eleganti, qualcuno come me è un po' sovrappeso, però tutti promettono farò, nella casella delle lettere voi avrete un sacco di volantini di gente che dice farò, pagherò, ristrutturerò, ma io ho visto quelli del PD che sono lì che dicono farò, ma sei qui che doverni da 50 anni, con che faccia vieni a promettere farò? Cosa hai fatto per 50 anni? Cosa hai fatto a Perugia per 50 anni? Noi possiamo dire farò perché qua non abbiamo mai governato, poi fra 5 anni ci giudicherete, se avremo fatto cose giuste e ci ridarete il voto, se non avremo fatto cose giuste sceglierete qualcun altro, noi sabato in piazza San Giovanni raccoglieremo le firme su due proposte di legge popolari, una che prevede l'eliminazione dei senatori a vita e l'altra l'elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte degli italiani. Eccolo, ti voglio bene amico mio, il dito medio l'abbiamo trovato, sei un grande, sei un grande, no? Come ti chiami? Si chiama Lorenzo, un applauso a Lorenzo dai, un applauso a Lorenzo. Ti voglio bene amico mio, lavoro anche per te, anche se oggi non lo sai, anche se oggi non lo sai, se noi smontiamo la legge Fornero, tu se mai nella vita comincerai a lavorare, potrai andare in pensione dopo 40 anni di contributi. Ammesso e non concesso che tu abbia voglia di lavorare, però questo è un altro paio di maniche. Ero preoccupato, ero preoccupato perché non avevo ancora trovato quello del dito medio. Lorenzo, mi hai rallegrato la serata. Ti ringrazio, veramente. Ti offro un caffè se poi ti fermi, giuro. Cos'è che fanno un flash mob? Fanno un flash mob contro di te? Cos'hai fatto? Dasp Urbani, e quindi questa sera ci sarà un flash mob per contro. Cioè, quindi Dasp Urbani, tu sei una persona bizzarra che se uno spaccia o fa casino non lo vuoi in giro per Foligno. E sei un tipo strano, eh? Pensa. Che tipo strano che sei. Anche nei cimiteri che rompono le palle ovunque. Sindaco, tu stai facendo semplicemente quello che la comunità si aspetta che tu faccia. Quindi, lascia il dito medio e vai avanti per il bene della tua città. Poi fra cinque anni si candida Lorenzo. In democrazia funziona così, eh? Ah, si è già candidato? Gli è andata male? Cazzo. Vabbè, sarai più fortunato. Dai, poi. D'altronde di sofferenza io sono milanista, me ne intendo. Quindi porta pazienza Lorenzo, che prima o poi le elezioni le vinci. Se no, magari sulla piattaforma Russo le vince. Dai, da qualche parte le vince. Ho parlato abbastanza. Ecco, non prendetemi per scemo. Mi hanno detto in orecchio, Matteo, vai avanti ancora un pochino, perché sta arrivando Donatella Tesei. È arrivata Donatella Tesei. Un applauso a chi governerà questa splendida terra fra quindici giorni. Fateglielo forte che c'avrà da fare qua, eh? Ce n'è da fare in regione. Donatella, siamo tutti con te, anche Lorenzo. Va bene. Grazie, grazie veramente. Siete tantissimi. E io vi ringrazio per questa presenza. Ci stiamo veramente dividendo in ogni parte dell'Umbria. Però qui stasera non si poteva mancare. Non si poteva mancare perché io comunque ho preso un appuntamento con voi. perché quando sono venuta per sostenere la campagna elettorale del nostro sindaco, di Stefano, ho detto l'Umbria cambierà e quindi anche Foligno deve cambiare. Foligno ha cambiato, abbiamo un nostro sindaco bravissimo e oggi tocca all'Umbria. Noi tutti insieme dobbiamo scrivere una nuova pagina per questa regione. L'Umbria ha bisogno di cambiare. Io non so che cosa ha detto Matteo Salvini, ma voglio ricordare a tutti che noi non andiamo per caso ad elezione il 27 di ottobre. Noi andiamo ad elezione perché sono successi dei fatti straordinari. e quei fatti hanno dimostrato un'incapacità a gestire la nostra regione, ad amministrarla, ma ci sono altri numeri, altre situazioni che sono veramente preoccupanti. Questa regione ha bisogno di ricostruire il proprio futuro, ha bisogno di una speranza, ha bisogno che il merito torni ad essere protagonista in ogni settore di questa regione, a partire dalla sanità. La nostra regione si è fermata, eppure è una delle regioni più belle d'Italia. Abbiamo un patrimonio storico, artistico, culturale importantissimo. Abbiamo un'industria e delle imprese che sono veramente degli eroi, che comunque ancora continuano a fare impresa nella nostra regione, nonostante tutte le difficoltà. Infrastrutture che non sono degne di una regione moderna. Le infrastrutture materiali, dalle strade alla ferrovia, e pensare che Foligno una volta era uno snodo ferroviario di primaria importanza. Non abbiamo più niente. La linea dell'alta velocità è passata e passa dappertutto e non passa in Umbria. Ricordo la grandezza delle grandi officine di Foligno. Io l'ho ricordato anche recentemente per la campagna elettorale di Stefano. Quella è un'altra eccellenza dell'Umbria. Ha dato tanti posti di lavoro e deve tornare a darne altri, perché quell'eccellenza oggi deve essere recuperata attraverso una piccola infrastruttura, un piccolo investimento che possa consentire di fare entrare nuovi locomotori all'interno di quelle grandi officine. Noi lo faremo perché non si può stare più a guardare. Parlo dell'altra infrastruttura che è un aeroporto che non funziona. Anche quello dovremmo fare delle scelte importanti per dare vita, sviluppo e lavoro, che è la grande emergenza di questa regione. I nostri giovani oggi sono costretti, una volta formatisi qui, nelle nostre scuole, nelle nostre università, ad andare con la valigetta a cercare lavoro fuori. Questo non è più tollerabile. Noi abbiamo un tasso di soccupazione che è uno dei più alti delle regioni italiane. Ci dobbiamo rimettere in moto, ma per farlo questa regione insieme deve trovare la fitucia e la forza di cambiare pagina e di cambiare il sistema, perché questo è un sistema che è stato oppressivo in questi anni, che ha fatto delle politiche discriminatorie nei confronti dei meritevoli. Tutto questo noi non ce lo possiamo più permettere. Bene, io sono qui a dirvi... A dirvi che ho risposto a una richiesta che mi è stata fatta dagli Umbri di candidarmi alla presidenza della regione. Voglio spiegarlo, mentre molti altri si sono candidati per mantenere le poltrone facendo anche accordi innaturali, perché non ci dobbiamo dimenticare di ciò che è accaduto. Oggi ci sono dei partiti che si sono alleati, che prima erano nemici acerrimi. L'uno ha denunciato gli altri. Oggi sembra che tutto sia normale. No, signori miei, questo non è normale. Questo non è assolutamente normale. E a noi non servono le poltrone, a me sicuramente no, perché alla fine io sono vissuta sempre della mia professione. Oggi ho un ruolo importante. Sono presidente della Commissione Difesa del Senato. Forse quella cosiddetta poltrona è meno impegnativa e meno problematica di quella che andrò a ricoprire dopo il 27 di ottobre, perché da fare ce n'è tanto. Dobbiamo riportare e riorganizzare la macchina di questa regione, le strutture sanitarie che sono dove oggi il merito non ha trovato la propria allocazione giusta. Ma io lo so che ci sono medici, professionisti della sanità, bravi, validi, quelli vanno valorizzati, quelli bisogna rimetterli al centro e riorganizzare un sistema che possa veramente dare le risposte giuste ai cittadini, servizi adeguati evitando spreghi e duplicazioni che non servono. La sanità pubblica sulla quale noi crediamo e che dobbiamo rimettere in moto è un imperativo categorico della nostra azione di governo. Questo lo faremo, è possibile farlo e sono convinta che tutti gli operatori della sanità che sto incontrando e che mi stanno parlando dei grandi disagi che hanno vissuto torneranno a lavorare bene per l'interesse generale dei cittadini sapendo che tutti possono partecipare alla pari in tutti i ruoli che devono svolgere. Questo è il nostro obiettivo. L'economia deve ripartire. Non possiamo più aspettare. Dobbiamo veramente ridare un futuro alla nostra nuova generazione ma anche a chi ha perso il lavoro e di crisi e di aziende che chiudono ce ne sono fin troppe. Il pubblico non deve trovare posti di lavoro. Il pubblico deve solo essere di aiuto all'impresa, agli imprenditori, a quei coraggiosi che fanno impresa qui. Come? Almeno semplificando le procedure dando quelle infrastrutture minime sia materiali che immateriali parlo della digitalizzazione che serve sia per la pubblica amministrazione che per le imprese per operare qui ma nello stesso tempo essere competitive nel mondo. Come vedete io parlo di Umbria parlo dei problemi di questa regione cercando di trovare le soluzioni giuste. Tutto questo noi lo possiamo fare. Dobbiamo riallacciare rapporti importanti dal mondo dell'impresa, la scuola, l'università perché la formazione deve tornare al primo posto e dobbiamo anche indirizzare i nostri giovani su quella che è la richiesta di lavoro e di professionalità che le nostre imprese fanno. Tutto questo queste non sono fantasie, non sono slogan, ma sono una disamina concreta di quella che è la realtà attuale dell'Umbria e quella che è l'Umbria che dovremmo costruire insieme perché una visione di lungo tempo e di lungo periodo questa regione deve tornare ad averla. Non è più la regione delle emergenze soltanto ma deve avere un progetto che guardi veramente al futuro. Noi insieme dobbiamo ricostruire il futuro di questa regione. Vedete, questo è un momento importantissimo per questo futuro che intendiamo ricostruire. So perfettamente che sarà una strada faticosa, molto impegnativa. Io sicuramente ci sono insieme a me i molti candidati delle liste che appoggiano, che sono in coalizione e che mi appoggiano a partire da quelle dei tre partiti di centrodestra e le due liste civiche. Ecco, io voglio tranquillizzare tutti, non sono quella persona che dice arrivo io perché si sta diffondendo un po' la voce che adesso se arriva la T6, arriva il centrodestra, qui poveri noi vogliono fare quello, vogliono chiudere la sanità pubblica, non si sa che cose stanno girando. Tranquilli, chi ha voglia di lavorare, chi ha un obiettivo unico che è quello del bene comune, di una comunità ampia, ma nello stesso tempo piccola come l'Umbria, troverà in me non solo il supporto, non solo la collaborazione, ma la gratificazione per quello che farà. e io sono convinta che tutti insieme possiamo perseguire questo risultato. Il mio programma, il programma nostro elettorale, è pubblicato su tutti i siti, quindi non voglio entrare nei dettagli, anche se sarebbe come lo sto facendo nei vari dibattiti, nei vari confronti, sto spiegando i singoli punti di quello che è il nostro programma e che riguarda un po' tutti i settori. Ma l'obiettivo primario sarà questo, far ripartire l'economia di questa regione che è bloccata, ridare lavoro, perché senza lavoro non potremo essere nemmeno di aiuto a quelle fragilità, a quelle famiglie, a quelle persone che si trovano in stato di criticità e di difficoltà. Dovremmo avere un riguardo a tutto questo, ma per farlo dovremmo sapere indirizzare bene i nostri sforzi, ma dobbiamo far ripartire l'economia di questa regione e di eccellenze, questa regione ne ha veramente tante. Bene, è un percorso che intendo fare, io sono pronta a farlo, naturalmente qui ci vuole tutto il vostro aiuto, perché questo è un appuntamento storico, ve lo dico, questo è un appuntamento storico, o oggi, o dovremmo aspettare forse altri 20 o 50 anni, siete disposti a fare questo perché questa è la domanda. Allora, allora dobbiamo credere in questo progetto di cambiamento e io lo voglio fare con tutti, perché sto parlando a tutti e quando parlo e quando incontro le persone, sento i loro consigli, ascolto le problematiche e non chiedo mai qual è la tessera di partito a cui appartengono. Questo è il cambiamento vero, non l'ho fatto mai, in 10 anni che ho amministrato la città di Montefalco, non lo farò certamente nell'amministrare la regione dell'Umbria, quindi io ci sto, ma il 27 ricordatevi tutti che il cambiamento ha soltanto un nome, il resto, state attenti e guardate a cosa fate, non sprecate i vostri voti, perché questa, se la vinceremo, sarà una vittoria e una liberazione della nostra regione. Grazie. Fateglielo forte l'applauso a Donatella, io ci tengo a salutare nonna Albertina, giovane novantenne di Giove di Valtopina e poi vi ringrazio, è veramente una bellissima serata, ci rivediamo il 27 ottobre, anche perché c'è alle ore 18 Roma-Milan e quindi ho già firmato l'accordo, perdiamo quella partita ma vinciamo quella più importante. Quindi ho già ceduto. Grazie, buona vita a tutti e buona fortuna. Viva Foligno, viva la Lega, viva l'Umbria e viva Lorenzo. Grazie. Grazie. Se qualcuno vuole fare una foto fermatevi pure. Allora, intanto vi spiego brevemente, con calma, perché il tempo c'è quindi non dovete spingere, si entra da quella parte, no, si entra da quella parte e si esce da là. Prima facciamo le persone, se vogliono fare una foto, che sono presenti qua, quando abbiamo liberato questa area, si entra.